ispirati da quella gioconda e vaga primavera descritta nelle rime di francesca turrini bufalini il comune di san giustino con la soprintendenza l'associazione nuova musica il patrocino della aib e della comunità montana alta umbria ha messo a punto un programma culturale dedicato alle letture che si spalmerà su quattro appuntamenti compresi tra maggio e giugno il primo appuntamento quello di domenica 15 maggio è fissato alle ore 9 e 30 nelle splendide sale del castello bufalini dove saranno lette le rime di francesca turrini bufalini a cura del professor paolo ba le letture saranno eseguite da maria grazia cappelletti con musica ed epoca di luisa moncherini al flauto ed alessandro zucchetti alla chitarra domenica 22 maggio ore 17 e 30 le letture si spostano all'agriturismo la casciara in località uselle di renzetti dove si svolge l'incontro con l'autore si tratta di dino marinelli che racconta le sue storie di vicoli ed intorni 2010 le letture saranno svolte dalla compagnia amatoriale teatrale gli istantivi con le musiche a cura degli allievi della scuola nuova musica giovedì 26 maggio prosegue il calendario alle ore 18 all'agriturismo il cantuccio in località cantone dove ci sarà un incontro con l'autore stavolta il giornalista toni golia presenti i suoi libri coordina l'evento massimo zangarelli mentre le letture saranno curate dalla compagnia amatoriale teatrale la treggia le musiche a cura del maestro mirco taschini oboe e edoardo filippi al fagotto ultimo appuntamento venerdì 10 giugno alle ore 18 e 30 presso l'agriturismo camatra in località pitigliano ancora un incontro con l'autore scrivere con la luce stefano giochi presenta la sua ricerca fotografica e le sue pubblicazioni accompagnato dal maestro luca pacciarini il nostro canale è stato un'altra parte di prima 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 di Grazie a tutti